allora restocchi x ma sentite signori ma è meglio se compramo tipo una scarpetta da quattro piotte e l'altro cappa tipo voce compramo dei vestiti o voglio farla foglia dei colori con le tre biscotti cerca trevis oddio 1280 cazzo 45 cazzo 45 e mezzo erano volose su stock x costano le più oddio so se sono bastate però ultima vendita 1500 fighe so fighe però eh mo c'ho una mezza indecisione se voglio comprare le trevis o compramme tipo un'altra scarpetta e compramme un po' dei vestiari cioè dei vestiario se lo sapete a me quale mi piaceva pure le jordan jordan 4 off white queste quasi porco dio però queste sono pulite allora facciamo una cosa qualunque scarpa ce compriamo oggi ce ce dobbiamo comprare anche il vestiario vicino cioè che dici cazzo o una volta mi metto quell'outfit e c'è sta tutto bene madonna queste ma che io te so queste oh zio porco boh io però ho capito sto modellino così mi piace sto modello così mi piace una jordan pazza così mezzo che mi piace perché a me tipo le vulcanized mi piacciono vulc e il problema è che costano tipo troppo quant'è che costano no queste eh le converse cioè queste tipo sono bellissime cioè a me queste mi tipo mi ingolosiscono ma cioè regà capite 4000 e 4k la converse queste neanche se fossi bill gates 4k no non esiste ok qua costano nemmeno 1800 costano quanto le travis cioè queste tipo le metti con qualunque roba però c'è però c'è a sto punto capito te prendi le travis scotti vabbè oh sai che c'è queste per me ce le potremmo anche comprarsi poi se non ci piacciono vaffanculo magari si rialzano che cazzo ne so ne compramo due le scarpe sì che vedevo di 379 costano se compramo queste magari un altro paio dai queste ce le possiamo comprarsi queste vorrebbero rialzasse nuovo e mai indossato una scatola originale prodotto confermato 405 euro conferma acquisto quelle celestine abbiamo comprate adesso perfetta allora ci siamo comprati queste signori mo abbina su queste abbina sta scarpetta che se compramo jd london pantaloni non è brutta la robetta testa testa cosa tipo 10 in pantaloni così pazzo cazzo un pantalone così pazzo ci vorrebbe mezzo sta eh oh me sta che 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 tamarrata zio porco forse questi con le nuvole ce stanno meglio cazzo con questi mi sa che ce stanno puliti eh e però sì su farfait su farfait c'è sta parecchia robetta carina di de de maglie cioè c'è vuoi metterci te ci metti tipo una ferpetta così sopra c'è pari fashion week cioè sei pazzo nel cervello oddio guarda che outfit è questo cazzo l'outfit di questo era bollente oh sto tutto eron preston pantaloni larghi e scarpe of white però adesso vanno più adesso arriva l'estate tocca prendere qualcosina di magliette questa è pulita però questa questa è l'unica mezza che che filerei su asos se ce stanno gli sconti una tuta così tipo mi fai vedere se ce sta una tuta ciotta porta porta chiavi pantaloni tu da 90 euro cazzo questi so belli cazzo sti pantaloni so co questi so co questi so coati il fatto è che con quel celi il fatto è che con quel celestino non ce stanno bene per niente sapete un altro sito dove c'è sta roba caruccia solo per un'ora codice l20 ma che pantaloni ce stanno qua qua sicuramente non ce stanno pantaloni per l'idea che voglio io comunque è tipo uscita la nuova collezione d'off white e voi direte vabbè che schifo però c'ha un sacco di roba simpatico ho visto jeans slim cavallo basso in denim oddio oddio questi ci vorrebbero sta però certo 500 euro per un jeans mi sembra esageratamente troppo oh ultima misura 45 oh sta scarpetta simpatica oh ah sì questa è l'avance che costa un po di più saldi fino all'80 per cento fammi venire sti saldi all'80 per cento ragazzi io mi voglio comprare pure in cappellino se la quant'è che non metto tipo sti cappellini qua no ragazzi è il mio è il mio è il mio quello della caterpillar eh ragazzi ma sai che è il cappellino mio ah sì quello delle ruspe no 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 ah sì questo vorrebbe essere la hit ah sì il cappellino da da camionista della caterpillar sì sì io me lo stanno però questi così grossi non mi piacciono eh questo è caruccio sì ma quanto costa sto cappello tre piotte 170 euro porco dio però cazzo questo questo me gusta però due piotte per il cappello sono un po cazzo che belli però è vero c'hanno un sacco di cappellini c'hanno un sacco di cappellini pure questo è simpatico boh in realtà questi palm angel mi piaceva quello bollente mezzo che ce fottevo quasi quasi mi sa che mi compro questo per il meme sì mi sa che mi compro questo letteralmente per il meme ormai tutto per il meme vado vestito per il meme come te vesti boh io me vesto per il meme chi è che c'ha il cappelletto con freni bollente così sì è che quelle fiamme non mi convincono se era tutto se fosse stato tutto nero senza quelle fiamme sicuramente sarebbe stato molto più gradito dal signor cappa boh voi che dite lo fillate e questo però dai vedo abbastanza persone d'accordo su questo beh allora mi prendo pure questo dopo mi prendo pure il cappellino e ah sì guarda dato che stiamo su farfette pure sai che cercamo pure al volo i i carsini i carsini quelli alti sì ah sì calzettone così cappelletto boom ma c'è ah sì c'è stanno pure i calzetti i calzetti abbinati quanto cazzo sono bollente però lo sapete cosa non c'hanno la scrittina palm angel quindi quasi che mi prenderei questi neri solo per far vedere la scrittina tanto so sarebbero comunque abbinati uguali calzetto con le fiamme e a questo punto se sei matto lo fai sul serio maglia palm angels ci sarà una maglia con le fiamme no 400 euro l'unica maglia con le fiamme è quella che costa 250 euro di più di tutte non ce voglio credere e non c'ha manco più le taglie no no 400 euro per una maglia per una maglietta a maniche corte guarda appena felpa ce l'ho pure spesi ma pure di più ce l'ho spesi alla fine una felpa ogni tanto una foglia dei colori una volta l'anno ha una maglietta 4 più 8 e no e che cazzo se no ti prendi tipo questa questa pure è infuocata cazzo questo però qua forse è una m altezza 186 indossa la taglia m questa questa è caruccia boe vabbè vabbè poi allora quindi allora ricappino allora ricappino scarpe comprate cappellino sicuro comprato mi trovo una maglietta da comprare e poi ve le faccio vedere in stream